Allora siete pronti per la serata di questa sera, l'ultima serata di Sanremo? Sono un po' felice e un po' triste, non so bene ancora come vi devo sentire. Sono strafelice del duetto di ieri con Paola Turci, portare un'altra donna sul palco è stato pazzesco. Poi mi sembra che sia arrivata un'energia gigantesca, questa sorrellanza, questa grandissima onda d'urto che è partita da noi e mi sembra che abbia investito tutte le persone che ci hanno ascoltato in televisione e in radio. Sono molto felice di come è andata, ragazzi la nostra femminilità non va mai mai messa da parte perché fa parte della nostra personalità, di quello che noi siamo nel mondo, quindi non ci sentiamo mai in difficoltà di tirare fuori anche, insomma, oltre la nostra credibilità, la nostra femminilità è anche un lato un pochettino più così divertente. E niente, questa sera ci sarà quest'ultima performance, io sarò sedicesima, quindi ci vediamo verso sul tardi. Sono contenta perché più ci si avvicina al verdetto finale, più forse la gente ci seguirà. È stato un bellissimo festival perché, a parte guardate che mare pazzesco che c'è, è una giornata bellissima oggi a Sanremo. È stato un grande successo di pubblico, un Sanremo di cui sono orgogliosa di aver fatto parte perché ci ha dato una grande possibilità cioè portare le nostre canzoni su un palco dove un sacco di gente ci ha ascoltato. Io vi volevo ringraziare per non aver mai smesso di cercarmi e mi raccomando, stay tuned, non smettete mai di cercarmi su tutti i social e anche questa sera su Raiuno Belli, ciao!